Buonasera signori e amici dei spettatori, siamo qui in Contrada Monte da Votturare Pina e stiamo per proporvi l'intervista doppia tra Ulderico Di Meo e Ciro Monzione. Nessuna bugia è ammessa a questo gioco, verità 100%, domande indiscrete e tutto quello che avete sempre sognato, signori. Siamo per partire, subito dopo il Blackfush pubblicitario, state con noi, non cambiate conare, sponsorizzato da Birra Peroni, anche questa sera, la intervista doppia! Fa la pubblicità, vai! Birra Peroni, dal 1846, di delizia giorno dopo giorno, notte dopo notte, una bionda per la vita! Calma, calma! Cosa c'è? Ti piace? Un'intervista rapida, ti piace la Peroni? Ciao! E' buona? Perché? Perché è buona? Perché è buona? Cosa ti fa provare? È buona? La consiglia a un amico? Sì! Signori, anche oggi Birra Peroni ha vinto! Ricordate, dal 1846 deliziamo i vostri palati! Ricordate, dal 1846 deliziamo i vostri palati!